Il mio momento di Spezia Parma del 18 maggio del 2019 è un momento speciale, un momento quando il Fosinone pareggia, cioè il boato della curva ospite, quella che eravamo noi, curva piscina mi sembra si chiami, e c'è stato questo boato, questo non ricordo sempre, quando la partita era finita, mancavano 5-6 minuti e c'è questo boato della curva ospite del Parma. Ricordo questa immagine di Lucarelli che è sconsolato, che sorpreso, dice ma cosa è successo? Questa è l'immagine che io mi ricordo di quello Spezia Parma, oltre ai gol di Ciciretti e di Ceravo, questa immagine qua, me la ricordo veramente bene, è un'immagine sacra.